Martedì scorso, che era il 18 ottobre 2022, mi trovavo in un'azienda alla quale stavo facendo un corso PES-PAV, quindi il corso sui lavori elettrici, per capirci, il corso che ogni operatore che interviene su impianti elettrici dovrebbe fare, che sia un elettricista, un manutentore, eccetera, dovrebbe farlo. Cosa è successo in quel frangente? È successo che stavo mostrando un video in cui c'era un cuore che era in fibrillazione ventricolare, quindi un cuore che non pulsava il sangue, e mezzo minuto dopo neanche, che ho mostrato questo video, mi chiamano lì in azienda e mi dicono, guarda c'è tuo padre che ha avuto un infarto e gli stanno facendo la rianimazione, anche se per adesso non è successo. Delle volte uno dice, guarda le coincidenze, e niente, quindi questa puntata che è un po' particolare, la voglio dedicare a mio babbo che ci ha lasciato, purtroppo con questo infarto così, e vorrei lasciarti un link sotto nei commenti in cui, se ti interessa, puoi andare a vedere la storia che in qualche modo lo riguarda, e che è una storia molto interessante perché è un pezzo di storia che è andata a finire anche su alcuni testi, quindi niente, scusami per questa puntata, un po' così, ma è andata così. Ciao!